Alcuni genitori e alcuni alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo spaventa mi hanno inviato questa nota che la dirigente scolastica ha inviato alla provincia Vigile del Fuoco e a tanti altri soggetti che sono stati attenzionati della situazione in cui versa l'Istituto Omnicomprensivo. Già alcune classi erano state ospitate nella biblioteca comunale di Città Sant'Angelo ma la giornata di ieri è stata una giornata veramente nefasta perché molti sono stati addirittura ospitati presso il Belvedere che ringraziamo naturalmente, altri hanno fatto addirittura lezioni all'aperto nella villa comunale e da oggi per alcune classi c'è la DAD, non per il Covid ma perché piove all'interno delle aule. Ho un video che è stato anche pubblicato che fa vedere qual è la situazione all'interno di queste classi che riguardano l'ala nuova, non quella che aspetta i lavori dopo il terremoto del 2016. Tra l'altro il sindaco aveva comunicato che a settembre già c'era stato l'affidamento di questi lavori a seguito di appalto non riusciamo a capire come mai da settembre, siamo a dicembre, i lavori non sono cominciati e soprattutto non sappiamo ancora oggi se questi lavori comprenderanno soltanto quell'ala o questa che invece è stata gravemente danneggiata e che non consente le elezioni. Proprio per questo ho chiesto al Presidente della provincia, attualmente al Vice Presidente che è in carica di essere ricevuto per avere chiarimenti su questi lavori e ho chiesto anche alla dirigente scolastica che ringrazio anche per l'appassionata lettera con cui ha scritto a genitori e studenti e professori di visitare la scuola nella giornata di domani per rendermi conto delle reali situazioni.